Ciao, sono Bruno Labarbera della Vale Immobiliare. Oggi voglio presentarti il nuovo servizio innovativo della Vale Immobiliare, il Tam Tam. Non è certo un rullo di tamburi che io farò per attirare più gente a casa tua, ma ti assicuro che farò riecheggiare più possibile la vendita del tuo immobile. Come? Te lo spiego subito. Realizzeremo un video di grande impatto emotivo, con riprese ad alta definizione, come un vero e proprio trailer di un film. In più, questo video verrà pubblicizzato attraverso strategie di marketing all'avanguardia, non solo a Palermo e provincia, le zone in cui opera la Vale Immobiliare, ma anche in tutta Italia. Come ben sai, la Vale Immobiliare è una videoagenzia che fa parte di una rete di videoagenti con sede in ogni regione d'Italia. Grazie a questa sinergia abbiamo sviluppato l'incredibile servizio che ti permetterà di aumentare esponenzialmente i possibili acquirenti di casa privata. Bellissimo, vero? Ma mi dirai, Bruno, ma questo servizio costerà tantissimo, non posso permettermelo. È lì che sbagli. La Vale Immobiliare ha deciso di inserire questo servizio all'interno dei servizi che dedica al proprio cliente. Se è una villa di lusso o se è un immobile di prestigio e ritieni che il tuo potenziale acquirente possa trovarsi in qualsiasi altra parte dell'Italia, e allora contattami o vienici a trovare qui in via Cavour numero 70 di fronte alla Banca d'Italia. Ti aspetto! Vale Immobiliare, diamo valore alla tua casa.